puntata numero 161 rompiballe show allora ragazzi sono qui per denunciare l'ennesimo tentativo di sabotaggio del rompiballe show sì sì ma non quello là che pensate voi un personaggio là che l'ho già messo a suo posto direttamente proprio da lui da donald trap sì 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 non so se avete sentito la settimana scorsa ha detto che vuole togliere android dai cellulari huawei e questo si tratta un chiaro tentativo di sabotaggio nei confronti del sottoscritto sì sì perché gli da fastidio il successo del rompiballe show porca miseria ma io nel 2016 quando ci sono state le elezioni in america ma a donald 2016 2017 non mi ricordo più a donald dio gli ho dato una mano se voi vi ricordate in un video che feci che mi aveva chiamato che era in difficoltà che non riusciva a vincere allora io sono andato la ho fatto il mio sottileggio l'ho fatto vincere ah sì e questo è il suo ringraziamento eh vuole sabotare i rompiballe show togliendo la licenza di android allora voi porca miseria eh ma adesso ci penso io eh eh quel panino che stai mangiando adesso donald dio ti vedo che stai mangiando il panino adesso fare così Super il panino rimane sullo stomaco sì 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 il panino rimane sullo stomaco sì 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 quando si addormenterà sognarà il panino che gli dice lascia stare Huawei lascia stare Huawei lascia stare Huawei me ne andrò lascia stare Huawei me ne andrò lascia stare Huawei e ti lascerò in pace finché alla fine lui cederà e non romperà più le balle a Huawei oh e che cavolo non lo dico ma è proprio una cosa allucinata sti americani però una cosa caro Huawei ogni volta che pronuncio il nome del cellulare Huawei qua mi si intricca la mascella per piacere potresti cambiare il nome in A vai via o vattene per favore così è più bello vai via o vattene per favore nuova marca di cellulare in cinese ciao a tutti e a presto prossima puntata panna vedo già che ti sta mettendo la mano sulla pancia ti ho avvertito ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti